Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi vedremo come installare un nostro proprio server VPN in modo abbastanza semplice grazie a WireGuard. Magari vedetevi il mio video precedente, la migliore VPN per la privacy video non sponsorizzato, per capire un po' cosa ne penso delle VPN commerciali, quelle pubblicamente disponibili e utilizzate dai comuni mortali. Ma qua vediamo come installare un nostro proprio server VPN. Allora, intanto vi faccio vedere qual era la situazione di default collegandomi al sito ipleak.net. Avevo il mio indirizzo, quello autentico, quello reale della mia connessione. Sono due perché uno è l'ip4 e uno è l'ip6. Poi ipleak.net vi darà anche altre informazioni, magari ci ritorneremo in seguito. Comunque, come vedete, mi trovo all'estero, non ve l'ho mai nascosto. E adesso vi faccio vedere la situazione dopo aver configurato il tutto. Ecco, come vedete, adesso mi sono geolocalizzato in Italia. Ho un indirizzo IP italiano che ho oscurato anche qua per motivi di privacy. E i più smaliziati diranno, vabbè, cosa hai fatto? Hai cambiato il tuo indirizzo IP, ti sei geolocalizzato in Italia e hai rallentato la velocità della tua connessione. Ebbè, pensate che c'è gente che per questo addirittura paga un abbonamento mensile a NordVPN, eccetera, eccetera. Ripeto, guardate il mio video precedente per capire cosa ne penso. Ma installarsi una propria VPN a casa, secondo me, ne vale la pena. E in quel video proponevo la soluzione di scambiare il server VPN con una persona di fiducia. Quindi due persone installano un server VPN a casa propria e poi si scambiano tra loro la connessione. E allora, ho l'indirizzo IP italiano, più in basso vediamo WebRTC Detection No Leak. Questo è proprio quello che volete raggiungere utilizzando una VPN perché non vorrete che poi sia il vostro browser a lasciarsi sfuggire delle informazioni su di voi. E quindi come si fa? Bisogna disabilitare WebRTC per il proprio browser. Più in basso vedete il server DNS che è solo uno e l'indirizzo IP che risulta qua corrisponde esattamente all'indirizzo IP riportato qua sopra. Allora, nel vostro caso in realtà compariranno i server DNS del provider internet. Mentre qua ho come server DNS questo stesso IP che significa che su questa connessione è installato un server DNS ricorsivo. Avevo accennato anche alla cosa sul video dedicato ai router, dedicato al Libre CMC. Si tratta di Unbound, quindi installando e configurando Unbound potete fare a meno dei server DNS del vostro provider. Lo avete semplicemente a casa vostra. E quindi qua compare lo stesso indirizzo IP che compare qua sopra. Benissimo, più in basso il sito IPleak.net vi darà anche altre informazioni, ma ci fermiamo qui per il momento. Cominciamo con l'installazione e la configurazione di WireGuard. Intanto, che dispositivo scegliere per questo server? Beh, fate un po' voi. Io l'ho installato a casa mia sul router, direttamente sul router, sul Libre CMC, essendo la cosa fattibile. Altrimenti sceglietevi un dispositivo, non so, ad esempio un Raspberry PI. E' chiaro che il dispositivo deve essere sempre connesso a internet, altrimenti non potete accedere a questa VPN. E allora, scegliete questo dispositivo e poi seguiamo questa guida, magari ve la linkerò nella descrizione sotto al video. Seguiamo questa guida su come installare WireGuard. Allora, scorro in passo, sono qua su Linux Mint, qualunque sistema operativo Linux, GNU Linux, va benissimo. Quindi, prima cosa, magari vediamo se ci sono aggiornamenti. Aggiorniamo il repository, do anche un sudo apt upgrade. metto la password. Aspettiamo un attimo. No, ok, non ci sono aggiornamenti, ma comunque il repository, la lista dei pacchetti è stata aggiornata. Adesso possiamo installare WireGuard. Allora, su distribuzioni basate su Debian, andiamo con sudo apt install WireGuard. Ok. Su altre distribuzioni, su distribuzioni basate su Arch, credo che il pacchetto si chiami WireGuard-Tools. Quindi andate con sudo pacman-s WireGuard-Tools. Va bene, abbiamo installato WireGuard. Adesso dobbiamo generare la coppia di chiavi, la chiave privata e la chiave pubblica del nostro server. Intanto generiamo la chiave privata con questo comando. Adesso voi vedrete la chiave, eccola qua, la chiave privata. Ma l'abbiamo anche scritta sul file .etc.wireguard.private.key Ora vogliamo che questo file sia accessibile solo da root, dall'utente root, non dagli altri. E quindi possiamo cambiare i permessi con il secondo comando che è trovato sulla guida. Eccolo qua. sudo chmod go uguale e poi il percorso della chiave privata. Ecco fatto. Adesso vogliamo, diciamo, convertire questa chiave privata nella corrispondente chiave pubblica. E lo facciamo con questo comando che sto copiando. Ecco qua. Perché vg pub key vi converte la chiave nella chiave pubblica. Ok, adesso qua sulla guida non è riportato di cambiare i permessi su quest'altra chiave. Ma possiamo farlo sempre con sudo chmod go uguale eccetera eccetera. Quindi qua scrivo adesso public. Ok, fatto. Andiamo avanti. Ok, adesso qua dice di scegliere un range IP4. Ci sono diverse possibilità. Comunque a noi non interessa, qualunque possibilità va benissimo. Io utilizzerò questa 10.8.0.0. Va bene, andiamo avanti. Questo lo saltiamo. Non mi interessa avere supporto all'IP6. Quindi saltiamo, saltiamo, saltiamo. Ok. Quindi andiamo sul file di configurazione del nostro server WireGuard. Io vado con sudo edit etc. Ah, scusate la tastiera è sbagliata. Ok, vado con sudo edit slash etc slash WireGuard slash. E poi dato un nome. Di solito si mette vg0.conf. Lasciamo questo nome. Ok, il file è vuoto e lo dobbiamo riempire noi. Allora, dobbiamo scrivere tra parentesi quadre interface. Chiudiamo parentesi quadre. E poi andando a capo, private key. Adesso lo lascio vuoto. La inserirò in seguito. Address uguale. E come vi dicevo mettiamo 10.8.0.1 slash 24. L'indirizzo IP6 non lo mettiamo. Non mi interessa il supporto all'IP6. Ok. Quindi cosa stiamo facendo? Una volta che parte il server VPN verrà creata una nuova interfaccia di rete. WireGuard crea una nuova interfaccia di rete. E il dispositivo avrà questo indirizzo locale. 10.8.0.1 Tutti gli altri dispositivi che si connetteranno a questo server VPN acquisiranno un indirizzo IP del tipo 10.8.0.2 oppure .3 oppure .4 Questo indirizzo IP verrà assegnato in modo statico. Non c'è il DHCP per WireGuard. Ok, poi andiamo con l'Eastern Port. Questa sarà la porta su cui WireGuard andrà ad ascoltare. Quindi di solito 5.1.8.2.0. La potete anche cambiare. E poi andiamo con save config uguale true. Ok, intanto salvo queste modifiche. Ritorneremo su questo file in seguito. Prima che ce lo dimentichiamo andiamo ad aprire la porta 5.1.8.2.0. Lo facciamo con sudo ufw se avete il ufw installato. E allora sudo ufw allow 5.1.8.2.0 UDP Protocollo UDP Va bene, regola aggiunta. Poi dovete ricordarvi di aprire la porta anche sul vostro router. Non vi posso dare istruzioni sul vostro modello specifico di router. Andate su port forwarding e aprite la porta 5.1.8.2.0 protocollo UDP Fatto, andiamo avanti. Ah, dovevo inserire la chiave privata. Quindi io direi di fare sudo cut. Oppure ce l'abbiamo ancora qua sopra. Allora, private key. Eccola qua. Questa è la chiave privata. Quindi faccio copia Ritorno sul file di configurazione di WireGuard Su private key. Adesso la incollo Ok Va bene Salvo le modifiche Andiamo in basso sulla guida Ora sul server abbiamo bisogno Di inserire due righe sul file sysctl.conf Quindi vado di nuovo con sudo edit etc sysctl.conf Ed inseriamo questa riga La copio Vado in basso Ok Inserisco questa riga Poi copio la seconda riga La incollo Ok Possiamo salvare le modifiche Poi diamo questo comando Per aggiornare questi valori Sudo sysctl-p Ok Come vedete Già vi dice Quali sono I valori Che sono stati Cambiati Va bene Andiamo ancora avanti Ok Ora dobbiamo vedere Che Qual è l'interfaccia di rete Che abbiamo Su questo server Con IPA Vediamo tutta l'interfaccia Aspettate che metto più Ops Guardate che ingrandisco Ok L'interfaccia si chiama ENS3 Nel vostro caso potrebbe essere ETH0 O WLAN0 Qualcosa del genere Comunque Io prendo questa ENS3 Dove è andato il terminale? L'ho chiuso? Va bene Eccoci qua E ritorno sul file Di configurazione Di WireGuard Slash etc Slash WireGuard Slash VG0 .conf Do la password Ok Adesso copiamo Queste righe Le incolliamo Dopo save config Ok Come vedete Abbiamo qua ETH0 Se questo è il vostro caso Lo lasciate così Io dovevo scrivere ENS0 ENS0 Anche qua ENS0 Vabbè Avete capito Io lascerò Semplicemente così Ok Andiamo avanti Le regole del firewall Già le abbiamo Applicate Va bene Vado ancora avanti Ok Siamo pronti Per far partire Il server VPN Adesso Ci sarebbe un comando Per Accendere Diciamo Il server Ma Come La cosa migliore È Farlo direttamente Tramite Servizio Tramite Demone Di Se avete Come SystemD Quindi lo facciamo Partire tramite SystemD Sudo Systemctl Enable Quick Service VG Quick Chiocciola VG0 Punto Service Magari Metto un Now E così Già è partito Perfetto Possiamo anche controllare Con Systemctl Status VG Quick Ok Come vedete Il servizio è attivo Quindi abbiamo finito La parte riguardante Il server Il server Già è attivo E sarebbe Raggiungibile Se però Andiamo ad abilitare Il dispositivo Che vogliamo Utilizzare Da cui vogliamo Utilizzare Questa VPN Ok Quindi Adesso Facciamo finta Che Sto cambiando Dispositivo Mi trovo Su tutta Su tutt'altra Connessione Adesso Siamo Non sul server Ma Sul dispositivo Che si collegherà Al server Ovviamente Anche su questo dispositivo Dobbiamo installare Wireguard Quindi di nuovo Sudo APT Install Wireguard Che qua Ovviamente È già installato E anche qua Dobbiamo creare La nostra coppia Di chiavi Quindi Copio anche questo Comando Adesso Io direi Che Andrò A cambiare Il posto Di private key Lo chiamiamo Private key 2 Va bene Poi potete lasciare Private key Ok Come vedete Mi ha creato La Chiave privata Anche qua Vogliamo che sia Accessibile Solo dall'utente Root Quindi Diamo Quest'altro comando Che avevamo visto Prima Come vedete Anche la configurazione Lato client Client Ed Tutto simile A quella che abbiamo visto Lato server Va bene Poi Convertiamola In chiave Pubblica Anche qua Inserisco 2 2 Voi potete lasciare Potete copiare Ed incollare i comandi Per così Per come sono Ok Dopodiché Anche qua Dovremmo creare Un file Di configurazione Quindi io vado con Sudo edit Slash Etc Slash Wireguard E poi A posto di Vg0.conf Magari la chiamo VPN1 Nel caso Vogliate più VPN Volete Collegarvi Da questo dispositivo A più VPN Io questa La chiamo VPN1 Ok VPN1.conf Qua Anche qua Cominciamo Con interface Tra Parentesi quadre Private Key Che per ora Lascio vuoto Poi metterò La private key Address Ora Ricordate Il server Aveva l'indirizzo 10.8.0.1 Quindi Per questo Adesso sarà Il primo dispositivo Che si collega Al server Mettiamo Un 2 Per il prossimo Dispositivo Avremo un 3 Per il prossimo Ancora 4 E così via Ok Quindi 10.8.0.2 Slash 24 L'IP6 Non ci interessa Poi scriviamo Tra parentesi quadre Pir Public Key Uguale Questo lo lascio vuoto Al momento Qua andrà La public key Del server Poi Allowed IP E qua Vi consiglio Di mettere 0.0.0.0 Slash 0 In questo modo Andremo A Indirizzare Tutte le nostre Connessioni Verso Il server VPN Il server VPN In pratica Ci sarà Un passaggio Ci farà Da passaggio Se In realtà È possibile Restringere Qua le connessioni Che andiamo Ad effettuare Ma Lasciamo stare Quindi 0.0.0.0.0 Slash 0 Endpoint Qua dobbiamo mettere L'indirizzo IP Del server Adesso Ne metterò Uno di fantasia Voi dovete Mettere L'indirizzo IP Del server Idealmente Questo dovrebbe Essere Un indirizzo IP Statico Che non cambia Mai Ma Se avete Se il server È Su una connessione Con un indirizzo IP Dinamico Vabbè Non Fa Non fa nulla Vi dirò Come poter Aggiornare Di volta a volta L'indirizzo IP Come ricevere Aggiornamenti Su qual è L'indirizzo IP Attuale Del server Allora Scrivo Un indirizzo IP Fasullo Va bene Così Poi mettiamo Due punti E la porta Che avevamo scelto Quindi 5 1 8 2 0 Ok Intanto salvo Intanto salvo Poi Qua abbiamo L'indirizzo IP Scusate La chiave privata Del client Quindi la metto Qua sopra Private key Del client Poi ci serve La public key Del server Ora La public key Del server Io l'avevo Su Slash Etc Slash Wireguard Private Public 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 Punto Key Ecco Questa è la Public key Del server Quindi la copio E la metto qua Quindi attenzione A non scambiare Private key E public Key Del client E del server In alto Qua su private key Ci va Sempre la Chiave privata Di quel determinato Dispositivo Qua public key E ovviamente La public key Dell'altro dispositivo Del server In questo caso Va bene Salvo le modifiche Andiamo avanti Con la guida Salto Tutto Questo Salto Tutto Questo Ah Dimenticavo Se volete Una configurazione Particolare Per quanto riguarda Il server DNS Potrete qua Aggiungere Una riga DNS Siamo qua Sul client DNS Uguale Poi andate ad inserire L'indirizzo ep Nel caso di Unbound Farete una cosa Del genere 10.8 Punto 0 Punto 1 Che era L'indirizzo Del server Appunto Va bene Andiamo avanti Ora Sul server Quindi Ritorniamo Sul server Sul server Dovete Abilitare Quel dispositivo Quindi Dovete Aggiungere La chiave Pubblica Di quel Dispositivo Del client Sul server Quindi Facciamo finta Che siamo Di nuovo Sul server E vado Con sudo VG Set VG0 Perché avevamo Chiamato così Quell'interfaccia Di wireguard WG0 Poi diamo PIR E la chiave Pubblica Del client Del dispositivo Adesso Non metterò Quella Che avevo Per brevità L'importante Che capite Cosa stiamo facendo E poi Allowed IPS E Per il primo Dispositivo Avevamo messo 10.8 Punto 0.2 L'indirizzo IP Se non ci serve Lo posso togliere Ops Scusate 8.0.2 Do invio Ok Fatto A questo punto Il dispositivo Il client Potrà collegarsi Potrà già collegarsi A questo server E Sì E' bene Installare Resolve.conf Su questo dispositivo Quindi lo installiamo Sul IPT Install Resolve.conf Il dispositivo Il client Potrà collegarsi Alla VPN Semplicemente Con questo comando Sudo WG Tratino Quick App E il nome Della VPN Che io l'avevo chiamata VPN1 A posto di fare questo È possibile Importare Il file di configurazione Di WireGuard Direttamente Sul Network Manager E quindi Potrete Connettervi Direttamente Da qua Dall'applet Del Network Manager Come si fa? Allora Vediamo se mi ricordo Sudo Sudo Nm Cli Sì Però non mi ricordo Connection Allora Sudo Nm Cli Riscrivo Sudo Nm Cli Connection Poi il nome Che era VPN1 VPN1 Va bene Aspettate Metto il video In pausa E ricontrollo Qual è il comando Esatto Va bene Vi faccio vedere Il comando Qua Sudo Nm Cli Connection Import Type WireGuard File E poi il file Che avete Sul client Quindi nel mio caso Era Slash Etc Slash WireGuard Slash VPN1 Punto Conf Va bene Spero di essere stato chiaro Era un video difficile Da fare Perché Come faccio a simulare Client E server Quindi spero che sia chiaro In ogni caso Vi linko In descrizione La guida che ho seguito Qui In modo che potete Seguirla anche voi E niente Buon divertimento Ciao Ciao da Clarintux Ah Dimenticavo Nel caso in cui Il server non abbia Un indirizzo IP Statico Ma dinamico Beh Allora Vorrete sicuramente Un qualche sistema Che vi notifichi Ogni cambiamento Di indirizzo IP Ricordate Sul client Avevamo Una riga Del genere Endpoint Endpoint Uguale E poi L'indirizzo IP Scriverò Un indirizzo IP Di fantasia Così ecco Poi due punti 5 1 8 2 0 Ok Quindi Questo indirizzo IP Noi Scusate Questo indirizzo IP Dovremmo andarlo a cambiare Ogni volta Come facciamo Per ricevere Una notifica Ad ogni cambiamento MP Beh Vi do una soluzione Sicuramente Non molto pulita Ma funziona Allora Scrivete Sul server Un file Del genere Update IP Punto SH E' uno script Come vedete La prima cosa Che fa E' andare a vedere L'indirizzo IP Vecchio Che lo abbiamo salvato Su un file Che ho chiamato Saved IP Quindi su questo file Abbiamo il vecchio Indirizzo IP Lo salviamo Su questa variabile Hold Poi andiamo a controllare Qual è l'indirizzo IP Attuale Lo scarichiamo Praticamente Dal sito IP Info Punto I O Slash IP Quindi Adesso abbiamo Due variabili Una con l'indirizzo IP Vecchio Una con l'indirizzo Nuovo Se l'indirizzo Nuovo E' diverso Da quello Vecchio Allora vogliamo Ricevere Una email E lo facciamo In questo modo Qua sto utilizzando Neomath Voi potete utilizzare Math Ci saranno Sicuramente Tantissimi altri Sistemi Comunque In questo modo Riceverete Su questo Indirizzo Email Una email Con l'indirizzo IP Nuovo L'oggetto L'oggetto L'email Sarà Notifica Nuovo IP E Il contenuto L'email E' proprio L'indirizzo IP Nuovo E poi Questo nuovo Indirizzo IP Visto che è cambiato Sarà anche salvato Sul file Saved IP Benissimo Quindi in questo modo Riceverete L'email Se andate a Mettere A fare un Chrome Un Chrome Job Allora come si fa Sul Sempre sul server Andate con Chrome Tab Trattino E Ok Ah non ce l'ho proprio installato Va bene Non fa nulla Chrome Tab E In fondo al file Mettete Uno Due Tre Quattro E cinque Asterischi In questo modo Ogni minuto Verrà eseguito Un comando Quale comando Voi mettete Slash Home Slash Il nome dell'utente Sul server Mettiamo Utente Slash E poi Come avevamo chiamato Il file Update Update IP Punto S H In questo modo Ogni minuto Verrà eseguito Questo script Se lo script Nota che è cambiato L'indirizzo IP Ve lo manderà Per email Va bene Questo è tutto Ciao Ciao